Un film western per Alex Belli niente affatto, il bel attore ex volto di 100 vetrine ha inaugurato a Verona la prima ipovia urbana d'Italia in occasione della fiera cavalli. Del resto Alex di Aquini se ne intende, la sua famiglia possedeva un centro ippico con maneggio e l'attore ha iniziato a cavalcare da bambino. Dopo la passeggiata a cavallo Alex si è rilassato insieme alla compagna Mila Suarez, ex di Fabrizio Corona ed ex tentatrice di Temptation Island. Tra baci e chiacchiere sembra proprio che Alex abbia definitivamente archiviato il matrimonio durato 4 anni con la modella Katarina Raniakova. In fiera c'era anche elettra Lamborghini, grande appassionata di equitazione, l'ereditiera assistito al Jumping Verona, unica tappa italiana della Coppa del Mondo di ostacoli.